Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo tutorial di Alltech Hobbies oggi vi farò vedere come si sincronizza la data e l'orario del router microtrip, cioè di una router board una volta collegati con il winbox basta andare in system, poi sntp client e dobbiamo spuntare la voce enable per abilitare le sntp client a questo punto dobbiamo inserire i server ntp, ad esempio quelli di innerim incolliamo e preleviamo anche le ntp server numero 2 a questo punto clicchiamo apply e ok, come vedete l'orario si è sincronizzato a questo punto dobbiamo verificare l'orologio del router board basta andare in system e clock come vedete il mio è già sincronizzato però dovete selezionare il fuso dell'Italia in questo caso Roma, una volta che è selezionato basta cliccare su apply e poi ok e automaticamente l'orario vi si sincronizzerà volendo al posto dei dns e degli innerim potete mettere anche l'indirizzo IP del vostro router cioè del vostro gateway se è in grado di funzionare da ntp server io ho concluso mettete un bel vi piace se vi sono stato di aiuto e iscrivetevi al mio canale grazie alla prossima grazie a tutti